padre remondini come possiamo approcciare la diversità nel contesto sociale di oggi e quali meccanismi potrebbero nascere per vedere nell'altro una fonte di ricchezza culturale e personale sì io credo che nel mondo le diversità che si incontrino che si incontrano generano normalmente novità creatività innovazione e mentre c'è un po l'idea che la persona diversa che entra in un contesto conosciuto rischia di essere destabilizzante di fatto però la diversità e quando parlo di diversità accenno anche alla fatica della vita della persona che noi pensiamo diversa la sofferenza spesso ha in sé una capacità di generare emozioni e reazioni che portano la persona che l'incontra a riflettere su di sé e a riflettere sul contesto in questo modo il diverso diventa un interprete e l'occasione l'opportunità per promuovere il cambiamento in un contesto che rischia di chiudersi senza alterità quindi gli immigrati possono portare un importante contributo con le loro capacità personali ricchezze culturali certamente sì non si tratta come spesso si sente si vede sui giornali o nel nei mezzi di informazione che gli immigrati portano reddito e portano produttività attraverso il loro lavoro la società non è determinata soltanto dalle regole economiche ma è il prodotto delle persone della loro storia dei loro percorsi delle loro culture e non soltanto da questo ma dall'intrecciarsi fra i diversi percorsi e le diverse culture questo fa sì che la società risulta un totalmente nuovo rispetto ai singoli componenti e quanto cresce la differenza delle esperienze dei singoli quanto la società diventa migliore diventa più bella e più invitante il ci informi il centro informativo per l'immigrazione della provincia di trento ha scelto si basa su una collaborazione con il terzo settore quali sono i vantaggi di una simile collaborazione e qual è il ruolo dell'ente pubblico in una tale collaborazione si molto spesso il volontariato il terzo settore in senso più ampio è capace di intercettare di provvedere di prevedere quasi profeticamente i bisogni e le istanze del mondo di oggi quindi molto spesso il volontariato e il terzo settore hanno avuto questo ruolo di anticipare da una parte i problemi ma dall'altra parte le risorse che sono dentro i problemi o più che dentro i problemi che scaturiscono nel momento in cui si affrontano i problemi quindi diciamo che il terzo settore ha un po' questo ruolo profetico di iniziare delle strade di intraprendere un cammino che poi lentamente attraverso questo ruolo profetico la società assume, prende, ci si avvicina, ci si interessa perché diventa appunto patrimonio dell'esperienza della collettività. A questo punto se ci limitassimo a questo avremmo una società chiusa dove soltanto il terzo settore interpreta della novità mentre invece viviamo in uno stato sociale dove chi garantisce la relazione fra le persone è chi è delegato proprio a creare i vincoli e i rapporti, i doveri, i diritti all'interno della società. L'ente pubblico quindi se è capace, se è vivace, se sa cogliere al volo le opportunità che nascono dovrà essere capaci di recepire queste esperienze anticipatrici, farle proprie, codificarle e farlo entrare nel processo ordinario delle regole che mettono in moto e fanno funzionare la collettività. Grazie.